eccoci con questa fantastica fiat 500d questo video lo dedico a tutti i professori perché ce ne sono tanti nel web questa è una 500d con delle licenze poetiche è stata fatta come al cliente piaceva quindi trasformabile abbiamo tagliato il tetto professori ma guarda che bella guarda che spettacolo olalà 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 guardate che bella come piace ai nostri professori ma adesso vi faccio vedere una cosa a tutti i professori che controllano gli sportelli se sono in linea o non in linea guardate un po' opla come si chiude perfettamente opla professori ma vi faccio vedere un'altra cosa professori apriamo il cofano professori apriamolo e vi faccio vedere come si chiude opla soprattutto con una mano amici eh questo è dedicato a tutti i professori che parlano che parlano ma non capiscono nulla opla siamo i meglio top non ce n'è per nessuno oh 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 gaviscon prendetevi il gaviscon che vi fa bene per i bruciori dello stomaco che dolore lo stomaco oooh ooooh oock ooooh ooooh Grazie a tutti.